Bitcoin con Donald Trump andrà fuori di testa. Entra a far parte di Bingx grazie alla promo estiva, iscriviti tramite link referral e potrai ricevere gratuitamente un massimo di 3.000 dollari, facendo semplici obiettivi. Prima di iniziare, vi consiglio di entrare a far parte all'interno del mio gruppo Telegram. Lascerò metodi di guadagno cripto e non link in descrizione. Gli investitori del Bitcoin ETF di BlackRock continuano a comprare. Nonostante il sentiment dei trader sia peggiorato, l'ETF su Bitcoin di BlackRock è cresciuto di circa un miliardo di dollari da lunedì scorso. Nonostante il forte peggioramento del sentiment dei trader sui social l'ETF su Bitcoin di BlackRock, ha continuato a raccogliere centinaia di milioni dagli investitori sin da lunedì scorso, nonostante il peggioramento del sentiment dei trader sui social. Il 18 luglio l'iShares Bitcoin Trust, iBit, emesso da BlackRock, ha registrato altri 107 milioni di dollari di afflussi. Si tratta della non aggiornata consecutiva di afflussi, come evidenziato da Thomas Farrer, cofondatore della piattaforma di dati sulle criptovalute Apollo. Sette di questi nove giorni hanno visto flussi superiori a 100 milioni di dollari, un risultato raramente raggiunto nel mondo degli ETF. Tuttavia i trader di criptovalute non sembrano altrettanto ottimisti. La quantità di commenti positivi su Bitcoin sui social è molto inferiore rispetto a quattro mesi fa, i trader stanno aumentando le posizioni short sull'asset, come evidenzia l'azienda di market intelligence Sentiment. I commenti positivi sul Bitcoin sono diminuiti, nonostante la ripresa di media entità registrata questa settimana dal mercato delle criptovalute, ha scritto Sentiment in un post su X. Molti trader, in particolare su Binance, stanno aprendo short con l'aspettativa che BTC scenda ancora. La quantità di commenti positivi su Bitcoin, sui social è circa un terzo rispetto a quattro mesi fa, mostra un grafico condiviso da Sentiment. Sentiment misura il giudizio dei trader su piattaforme social come Reddit, X, 4chan e Bitcoin Talk. È interessante notare come Sentiment abbia rilevato un'impennata di menzioni della frase buy the dip su queste piattaforme all'inizio del mese, ovvero quando BTC ha toccato un minimo plurimensile di 53.600 dollari. Nonostante il calo delle menzioni positive sul Bitcoin, il Crypto Fear Ramp Grid Index stima che attualmente il sentimento del mercato si trova in zona avidità, con un punteggio di 60 su 100. L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump terrà un discorso programmatico alla Bitcoin Conference 2024 che si terrà la prossima settimana a Nashville. Le voci che circolano sui social media suggeriscono che Trump potrebbe annunciare Bitcoin come risorsa di riserva strategica per gli Stati Uniti durante il meeting. Queste speculazioni provengono da Dennis Porter, cofondatore di Satoshi Act, che sostiene che fonti credibili confermano le intenzioni di Trump. Il fatto che Bitcoin sia un asset di riserva non è un concetto nuovo. I politici favorevoli a Bitcoin come l'ex candidato alla presidenza Vivek Ramaswamy lo sostengono da tempo. Ramaswamy ha proposto di sostenere il dollaro statunitense con un paniere di materie prime, tra cui Bitcoin, per combattere l'inflazione e mantenere il valore della valuta nel tempo. Come sarebbe una riserva di Bitcoin negli Stati Uniti? Se gli Stati Uniti adottassero Bitcoin come asset di riserva strategica potrebbero sfruttare la loro posizione di maggiore stato nazionale detentore di Bitcoin e richeggiare il pensiero di Trump, secondo cui tutti i Bitcoin rimanenti dovrebbero essere minati negli Stati Uniti. In sostanza, un asset di riserva strategica di Bitcoin implicherebbe che il tesoro degli Stati Uniti detenga ingenti quantità di Bitcoin come parte del suo portafoglio di riserva, in modo simile a come già fa con l'oro o le valute estere. Questa mossa rappresenterebbe un riconoscimento formale da parte del governo degli Stati Uniti della legittimità di Bitcoin e dei suoi futuri casi d'uso. La mossa si basa in gran parte sul futuro successo di Bitcoin. La mossa posizionerebbe USA in modo favorevole rispetto ai concorrenti globali e accelererebbe l'accettazione di Bitcoin come oro digitale e strumento di risparmio a lungo termine. Tuttavia, una strategia del genere incontrerebbe sfide sostanziali, tra cui ostacoli energetici, incertezza del mercato e opposizione della comunità locale. Il concetto prevede la protezione di Bitcoin tramite agenzie governative come il Dipartimento della Difesa e il Dipartimento dell'Energia per salvaguardarlo dalle minacce informatiche, istituendo potenzialmente un Combined Hash Force Component Command per gestire questa risorsa. Le recenti mosse pro Bitcoin di Trump ad alimentare ulteriormente le speculazioni sul ruolo delle cripto negli USA nei prossimi anni, l'annuncio da parte di Trump del senatore J.D. Vance come suo vis. Vance è un sostenitore delle criptovalute. Di recente Trump ha sostenuto con forza Bitcoin, sottolineandone l'importanza geopolitica e mettendo in guardia contro politice che potrebbero ostacolarne la crescita. È importante notare che questo sentimento di riserva di Bitcoin negli Stati Uniti si basa su poche fonti e potrebbe ancora essere classificato come una voce di Internet. Ma con l'avvicinarsi della Bitcoin 2024 Conference, la comunità cripto attende con ansia qualsiasi conferma di queste speculazioni. Resta da vedere se Trump annuncerà davvero Bitcoin come asset di riserva strategica, ma questa possibilità ha già irritato la comunità delle criptovalute. Bitcoin supera i 67 mila dollari. Il prezzo del Bitcoin è aumentato di circa il 5% nella giornata, registrando una ripresa impressionante dopo essere sceso a 63 mila dollari nella sessione di trading di ieri mattina. È riuscito a tracciare un massimo giornaliero locale a 67 mila 400 dollari su Bitstamp, ma da allora è sceso fino a dove attualmente viene scambiato a 66 mila 600 dollari. Questa è ancora una performance impressionante e i potrebbero consolidarsi ora in preparazione per un nuovo rally verso il livello di 70 mila dollari. Se si guarda la situazione su base oraria, il prezzo sembra aver ripreso un trend rialzista ed è interessante vedere se porterà Bitcoin a 70 mila dollari, che sembra essere il prossimo livello importante, altcoin in un mare di verde. Non è solo Bitcoin a registrare guadagni impressionanti, è l'intero mercato. Come si vede nella mappa di calore qui sotto, tutte le altcoin a grande capitalizzazione sono in rialzo in modo considerevole. Tra i titoli con le performance più degne di nota ci sono Doge, che è riuscito a registrare un aumento di circa il 7.3% SOL, in rialzo di quasi il 6% AVAX, in rialzo del 5.4% NEAR, in rialzo di oltre il 6% e così via. Sei e Ordi sono i migliori performer di oggi, in crescita rispettivamente del 18.5% e del 16.4%. PopCut e Bonk sono i meme coin che hanno avuto i risultati migliori, in crescita del 16% e del 13.2%. È interessante notare che tutte le prime 100 criptovalute per capitalizzazione totale sono in attivo, a dimostrazione della forza del mercato nelle ultime 24 ore. Il post-Bitcoin supera i 67.000 dollari, mentre le altcoin registrano guadagni considerevoli, Weekend Watch, è apparso per la prima volta su CryptoPotato. L'aumento del prezzo del Bitcoin avviene dopo un tratto punitivo. All'inizio di questo mese è sceso fino a 54.000 dollari, mentre il prezzo di Bitcoin è aumentato solo del 3% su base mensile, significa che la più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato è aumentata di oltre il 18% nelle ultime due settimane. Le vibrazioni a Wall Street erano relativamente cupe, con il Nasdaq Composite e l'SNP 500, entrambi ad alto contenuto tecnologico, crollati dello 0.6%. Nel frattempo il Dow Jones Industrial Average è sceso dell'1%. Infine, il prezzo del Bitcoin potrebbe aumentare mentre gli investitori si preparano per una settimana di alto profilo, ha detto Magadini, che ha descritto l'ex presidente apparizione programmata di Donald Trump in una conferenza Bitcoin che si terrà a Nashville la prossima settimana come fattore particolarmente rialzista. Probabilmente sarà molto positivo, ha detto riguardo al fatto che Trump abbia attirato l'attenzione sulla risorsa. Nel complesso mi aspetto i massimi storici for Bitcoin andando alle elezioni presidenziali.